Partita a due velocità ed ennesima sconfitta con la mare in bocca per Farmitalia-Saturnia che lotta fino al quarto set ma non è decisiva su quei punti che avrebbero potuto fare la differenza e rimane vittima dell'ennesimo infortunio che arriva poco dopo il fischio d'inizio. Ad aggiudicarsi la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca 2023-24 è il cisterna volley che mette a segno un decisivo 3-1 25-21, 25-18, 22-25, 25-22 contro i bianco-blu. Per una volta vorrei giocare con tutta la rosa, questo è il primo commento a caldo del responsabile dell'area tecnica Piero D'Angelo. Abbiamo infatti giocato l'ennesima partita con l'ennesimo infortunio. La mancanza di Masulovic ha penalizzato il nostro gioco nonostante la buona prestazione di Alessandro Tondo che lo ha subito sostituito e che è stato efficace a muro e decisivo in battuta mettendo a segno diversi punti. Nonostante tutto siamo riusciti a riprendere le redini del gioco ma poi abbiamo improvvisamente perso il filo ed è veramente un peccato perché stavamo facendo una buona prestazione.